Uh, aiuto! Allora... E perché, appunto, spero che riveda il video che ho fatto in Inghilterra durante questa mia esperienza possa, appunto, rivivere i momenti che ho vissuto lì e avere qualcosa di concreto, come ricordo, quando sarò qui. Allora, in questo canale farò video di tutti i tipi, penso, ma soprattutto video, appunto, dove parlerò di com'è, ad esempio, la scuola in Inghilterra oppure parlerò della differenza culturale tra l'Inghilterra e l'Italia. E quindi, niente, vi mando un grosso bacio e vi aspetto ai prossimi video! Ciao!